Ciao! Oggi parleremo di Classflow. Questo servizio è molto utile per gestire le lezioni in classe. Adesso effettiamo il nostro login. Faccio vedere una cosa prima, che possiamo loggarci sia come Classroom Teacher oppure come amministratore. Noi scegliamo Classroom Teacher. Ci logghiamo, aspettiamo qualche minuto e veniamo indirizzati nel pannello di controllo. Qui possiamo scegliere di utilizzare vari strumenti. Iniziamo dal primo. Utilizziamo una nuova sessione di lavagna interattiva. Qui possiamo creare le nostre slide. Utilizziamo vari tipi di strumenti, una penna e anche un testo. Poi potremmo utilizzare altri strumenti, però siccome non abbiamo nessun tipo di collegamento con le lavagne interattive, ci fermiamo qui. Salviamo quello che abbiamo fatto e andiamo avanti. Adesso non ci resta che creare le nostre classi. Usiamo un nome. Possiamo scrivere elementi di chimica. La materia. Ah, l'ho sbagliato qui. La materia. E qui comunque mettiamo competenze professionali. La classe. Perché vediamo che questo strumento è utilizzato sia nelle scuole materne, elementari, ma anche nelle classi superiori e soprattutto anche nelle università. Quindi diciamo che può essere utilizzato per qualsiasi età e per qualsiasi tipo di studente. Noi usiamo praticamente la terza media. Metteremo la scuola. Salviamo il tutto. Una data di inizio, una data di fine e salviamo il tutto. Proseguiamo con le nostre lezioni. Allora, come abbiamo visto, abbiamo creato la nostra lezione precedentemente tramite questa icona. Questa è qui la lezione che abbiamo creato. La possiamo usare oppure possiamo usare le lezioni della comunità. Basta aggiungerle alle lezioni personali. Abbiamo visto che praticamente ad ogni lezione vi sono vari commenti associati. Quindi possiamo vedere se una lezione può piacere o non può piacere. Usando i mi piace e i commenti possiamo valutare quale lezione utilizzare. Queste lezioni sono state già condivise da altri insegnanti. Quindi diciamo che è un sistema proprio di condivisione e di cooperazione sia tra studente e insegnante, ma anche tra vari insegnanti. Quindi diciamo è molto cooperativo questo tipo di strumento. Oltre alle lezioni che poi possiamo riprodurre tranquillissimamente, un altro elemento importante è quello delle valutazioni. Qui praticamente abbiamo delle valutazioni. Ad ogni valutazione possiamo inserire le nostre domande e aggiungiamo le domande. Settiamo una nostra scelta. Per esempio, scelta multiple, vero o falso, ordina, scala, Likert, numero o testo breve. Dopo la nostra scelta possiamo descrivere la nostra domanda, mettere varie opzioni, aggiungerne altre, settare il punteggio, il feedback, le classificazioni, tra cui materia, classe, tag. Possiamo compilare tutto, salvare. Noi non siamo soddisfatti, eliminiamo quello che abbiamo fatto. Andiamo indietro e possiamo utilizzare un altro strumento, le risorse. Queste risorse possono essere sia web, quindi cerchiamo, selezioniamo le risorse che ci interessano, personali, anche risorse di classe, oppure usare dei nostri account tipo Dropbox, Google Drive. Effettuando il collegamento possiamo utilizzare i file che sono nell'account di Dropbox oppure di Google Drive. Questo strumento è molto importante perché permette di utilizzare molte risorse, quindi le slide, di creare le proprie classi, di scegliere se usare una nostra lezione già creata, oppure integrarle con altre lezioni condivise da altri insegnanti. Per mettere l'invio delle valutazioni e quiz agli studenti, per vedere se effettivamente l'apprendimento ha avuto un buon fine oppure no, una volta che l'insegnante effettivamente capisce che la classe può andare avanti, inizia con un altro argomento. Quindi questo tipo di servizio ci permette proprio di interagire in modo molto più cooperativo tra insegnanti e alunni, avere un'intesa diversa, quindi stimolerà sicuramente l'apprendimento della classe stessa. Questo strumento è molto utile, è usato già all'estero, speriamo vivamente che verrà usato anche in Italia. Con questo è tutto, perché abbiamo finito la guida, abbiamo fatto vedere più o meno gli strumenti che vengono usati. Arrivederci e alla prossima!